Due persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile della questura di Pescara per truffa aggravata ai danni di una donna 83enne. In manette sono finiti due giovani di 36 e 29 anni, arrivati in trasferta dalla campania e che, come appurato dagli inquirenti con artifici e raggiri, erano riusciti ad impossessarsi di monili in oro della donna. I due sono stati fermati su un'auto intercettata per un controllo e al cui interno c'era il bottino. Siamo riusciti a individuare una macchina che ci è apparsa subito sospetta e per cui l'abbiamo fermata ed eseguito un controllo rinvenendo subito dell'oro nascosto in un fazzoletto occultato in un vano dell'auto. Era subito evidente che l'oro non fosse di proprietà dei due occupanti della macchina, che erano due persone in trasferta arrivate da fuori regione e siamo risaliti ad una truffa subita da una signora di 83 anni residente a Pescara. Le modalità sono quelle che si possono dire ormai consuete, nel senso che è un modus operandi che si sta ripetendo, ovvero quello della telefonata del nipote in difficoltà che ha bisogno urgente di denaro. In assenza di denaro vengono presi i preziosi, tra cui anche ricordi di famiglia, fedi nuziali e quanto in possesso della signora, comunque della vittima, che in quel momento si trova in casa e contestualmente si cerca di allontanare eventuali parenti o persone di fiducia che vengono impegnate in altre telefonate o comunque inviate ad esempio in uffici postali. È importantissimo l'impegno delle potenziali vittime o comunque delle persone che assolutamente non devono lasciare accedere alla propria abitazione terzi e strani e devono cercare di identificare immediatamente, devono cercare di identificare per quanto possibile il loro interlocutore telefonico, ricordando che in ogni caso non ci sarà mai nessun appartenente alle forze dell'ordine o funzionali di altri di altro tipo di agenzie o uffici che verranno a casa a richiedere soldi o beni preziosi, per cui in caso di dubbi per favore contattate immediatamente i numeri d'emergenza.